Bene amici, questo è il nuovo OnePlus 8T, a questo giro solo l'8 viene upgradato perché la versione Pro, quindi OnePlus 8 Pro, rimane un Straun 8T Pro e questo ha senso perché forse nel lancio precedente degli 8, beh, erano troppo simili perché anche l'8 normale ha il display curvo e non a tutti piace, anche lì le prestazioni, le spec un po' troppo vicine per giustificare la differenziazione invece con questo nuovo 8T cambia il comparto CAM, vedete è posizionato più a destra per far spazio alle due batterie che si caricano in parallelo a 65W, cambia il fatto che il display è piatto quindi non è curvo, always on display, sensore sotto allo schermo e un AMOLED, è un super AMOLED veramente bellissimo, super fluido, 120Hz probabilmente il pannello più bello che OnePlus abbia mai montato sui propri device, insomma, sì, mi è piaciuto come al solito iperfluido, c'è già Android 11, c'è qualche ma, sì, ma che scopriamo nella recensione completa e ho già un po' preaperto la scatola perché è una di quelle che vanno sotto vuoto e da aprire praticamente impossibile, dentro cosa si trova? una coverina, carina la scritta, media tra il morbido e il duro, il cavo che è tipo C, tipo C perché il caricatore esce tipo C, vi dicevo 65W, comodo anche per caricare altri device, per esempio anche i portatili eccolo qua, il design visto da vicino, rimane fortunatamente l'iconico pulsantino per andare da normale, vibrazione, a non disturbare, comodissimo poi qua abbiamo accensione e spegnimento che può essere programmato nella pressione prolungata, può anche diventare pulsante per attivare l'assistente Google e anche la fotocamera se premuto due volte, poi qua i pulsanti per il volume sopra c'è solamente il secondo microfono, primo microfono qua sotto con lo slot per mettere due sim, non c'è l'espansione memoria, due tagli di memoria 828 o 12256 UFS 3.1 tipo C purtroppo non esce il video e poi l'altoparlante che è stereo perché l'altro altoparlante è qua sotto con la capsula che fa proprio da speaker 8,4 mm di spessore, 188 grammi, devo dire non è una padella, quando lo prendete in mano vedete lo potete sbloccare con l'impronta molto molto velocemente dietro il comparto fotocamera che vi dicevo è stato spostato verso sinistra rispetto agli altri OnePlus a me piaceva più l'8 come simmetria ma capisco che avendo messo una batteria qua e una batteria là per andare in ricarica veloce non c'era spazio la cam principale è la stessa dell'8, la 48 megapixel, 16 megapixel, 123 gradi la grande angolare poi c'è la 5 megapixel macro e questa che è monocromatica 2 megapixel che però non fa le foto ma va a captare la luce ambientale poi la foto la fa sempre la 48 megapixel ma con le informazioni sul bianchino di questa cam e poi ovviamente c'è il flash led dovrei avervi detto tutto, no always on display purtroppo non è sensibile alle variazioni di luce io la vedo, lo vedo la cam non so se lo riesce a inquadrare ma questa grafica è bellissima vi dice quante volte avete sbloccato il telefono e per quanto tempo l'avete tenuto bloccato e sbloccato come vedete vi va a notificare anche tutte le applicazioni che hanno delle cose da dirvi vedete là in alto a destra GPS ok tra i migliori, ok Android Auto, ok Pay, cancelliamo un po' di notifiche, vado nelle impostazioni faccio subito vedere come c'è si Android 11 di default con le patch di settembre 2020 Oxygen OS 11 poi andremo a vedere le novità, non è che siano poi tantissime, 5G stand alone, non stand alone, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 APTX e la batteria, allora andiamo subito nella galleria, andiamo negli screenshot, non so perché c'è uno screenshot di quello che ho fatto adesso probabilmente perché giocando con i tasti si è scattato, allora 7% in questa giornata particolarmente stress guardate che ora l'ho finita mezzanotte e 41, le mie classi è 4 ore 39, sono intorno alle 4 ore e mezza 5-4 di utilizzo del display nella mia giornata stress andamento di carica e scarica, un po' dottor Jekyll e Mr. Hyde non tantissimo, non scalda tantissimo ma quando siamo sotto 5G ovviamente sono tutte misurazioni fatte col display a 120 Hz perché è troppo bello col cavolo che lo abbasso il refresh rate ma vedete come se abbandoniamo il Wi-Fi un po' la curva si impenna e ho usato tanto solo Maps ho fatto 1 ora e 24 minuti ma andiamo a vedere una giornata come oggi che non è stata tanto stress, non è stata tanto in ufficio, poco 5G andiamo subito nella batteria e vi faccio vedere l'utilizzo, vedete un pochino più standardizzato e appunto 3 ore 3 minuti di display quindi è abbastanza soggetto alla scarica quando siamo fuori dalla rete Wi-Fi torno indietro perché voglio farvi vedere il display che vi dicevo prima, veramente molto molto bello comunque giornata ottimizzata, cioè standardizzata stress 10-15% a sera, mi sono dimenticato di dirvelo e non vi ho detto che batteria 22,5 wattora, carica 65 watt, cosa vuol dire? 10, anzi 12 minuti per arrivare al 50% 39 minuti per arrivare al 100%, quindi l'attacca e fuggi funziona alla grandissima allora, display vi dicevo molto bello e mi sono un po' sbilanciato nell'intro, ho detto forse il più bel pannello che ha mai montato OnePlus sui propri telefoni per un paio di motivi che adesso vado a raccontarvi allora, prima di tutto mettiamo nella massima risoluzione perché a 240p non si può vedere ok, adesso aspettiamo che scali, guardate che bello, siamo adesso in full HD, HDR, angoli visuali perfetti uno dei motivi per cui mi è piaciuto tanto è la visibilità sotto la luce del sole, veramente molto molto alta l'altra cosa per cui mi è piaciuto, nel fatto che mi piace vedere anche Netflix che viene riconosciuto tranquillamente in HD e quindi riproduce alla massima qualità tutte le varie serie TV, questa è una delle mie preferite che sì, mi cucco in inglese giusto per tenermi in allenamento è la, quando abbassiamo la luminosità, lo scrolling finalmente un OnePlus che quando scrolliamo anche a bassa luminosità non va a impastare le scritte, quelle diciamo nere su bianche ma in realtà le va a riprodurre bene vi faccio vedere la schermata del display dove è possibile andare a settare 60 o 120 Hz proprio la frequenza di aggiornamento e la cam gira a 50, questo video è a 50 frame per secondo quindi magari non riuscite a coglierlo ma veramente tanta tanta roba la fluidità come vedete schermo ambient finalmente sempre attivo e altra cosa che voglio far vedere è la completa e profonda personalizzazione a parte gli sfondi ma anche dell'always on display ce ne sono tanti, tutti simpatici ma secondo me il più carino è proprio questo qua tra l'altro con degli aggiornamenti software ci hanno detto che dovranno arrivare degli altri always on display e poi si può cambiare anche l'animazione delle impronte il colore dell'evidenziazione, le icone sistema, se quadrate, stonde ovviamente il pacchetticone può essere scaricato dallo store e ce ne sono già due preinstallati quindi grande personalizzazione anche per quanto riguarda le utilità con l'avvio veloce è sempre comodo, c'era anche nei presenti OnePlus ma ve lo faccio rivedere perché è una delle cose che trovo più utili tenete premuto e se tenete premuto lì in mezzo ricerca vocale al volo, nuovo evento oppure nuova nota se fate swipe giù andate direttamente all'uscita da quel menu che mi è sempre piaciuto tanto menu delle utilità, altra cosa che volevo far rivedere delle app parallelele, quindi doppia account su queste applicazioni e una novità che ho notato, mi è piaciuta menu spegnimento, guardate, sentite premuto qua direttamente Google Pay e le luci della domotica se le avete integrate in Google è una cosa che mi è piaciuta particolarmente swipe a destra per andare alla classica schermata Today di sempre Google, si è sempre, è Google centrico ovviamente questo telefono nelle impostazioni della home swipe giù per abilitare o meno la schermata shelf e le notifiche e le impostazioni rapide cos'è la schermata shelf? non è questa perché qua vi dicevo prima c'è Google è quella precedente schermata che si utilizzava in facciamo così così ve la faccio vedere in Oneplus che vi dà gli strumenti rapidi con tapassi, le aprecenti dove avete parcheggiato insomma è una questione di abitudine se volete la potete abilitare in questo modo e poi e poi la possibilità ovviamente di decidere se avere schermata home con tutte le applicazioni oppure la modalità cassetto ok torniamo indietro vi parlo di parte telefonica devo dire molto bene la ricezione hanno cambiato il posizionamento delle antenne in questo 8T alzo il volume lo tengo così perché il mio voce è stereo esce da qua ed esce da lì è particolarmente potente come avete visto il dialer è quello stock classico di Android quindi arriveranno gli avvisi se vi arriveranno delle chiamate di spam e vi dicevo ok l'audio è la ricezione ma anche l'audio della capsula auricolare oltre che della mia voce mi è piaciuto particolarmente e poi quello su cui punta Oneplus le prestazioni le prestazioni fanno paura sia per quanto riguarda la fluidità vabbè le storie faccio il blibli 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 blom ma qua è Instagram che fa schifo però in questi giorni mi avete detto che le storie non erano assolutamente male ma a parte quello vi apro in sequenza offerte.club e poi vi apro in sequenza anche Twitter poi vi apro in sequenza anche il gestore delle pagine dove vado a scrivere qualcosa ed è tutto come va la vita no volevo dire estremamente veloce ma davvero estremamente veloce molto bello il feed della vibrazione è aptico, è preciso sia nel vai avanti sia nel vai indietro in tutte le cose è veramente top multitasking veramente una bomba super veloce modalità gioco 7 secondi per aprire Real Racing si fai un bel riprendi ma vi faccio vedere se sono schiantato contro il muro che c'è la modalità game dove si può andare a fare cose anche registrare lo schermo ad attivare la finestrella con Instagram se vogliamo guardare Instagram mentre facciamo il gameplay possiamo disattivare le notifiche insomma ce lo possiamo un po' giostrare come vogliamo usciamo dalla modalità gioco tra l'altro c'è anche Whatsapp se non sbaglio una modalità di gioco che si può aprire in finestra parliamo della parte invece che mi ha convinto meno perché è la cam il comparto cam già sull'otto buono sì però rimane sul buono qua rimane praticamente quello va a interpolare quando si fa zoom perché non ha una camera zoom la grandangolare 123 gradi non distorce particolarmente modalità ritratto ragazzi proprio non mi è piaciuta poi ve la farò vedere c'è la modalità notturna video allora come vedete si può switchare tra le cam ma solamente se si gira a 30 frame per secondo già se vado a spostare la qualità a 60 frame per secondo mantenendo magari anche il 1080 può arrivare fino a 4k purtroppo si perde questa possibilità guardate solo uno per vabbè panorama timelapse e la modalità pro dove si possono settare gli ISO bianciamento e il bianco la velocità dello scatto fino a 30 secondi da un 8 millesimo e niente andiamo a vedere come vengono le fotografie mamma mia che bello girare tra i menù di questo telefono veramente super veloce partiamo subito con delle foto che non mi hanno fatto impazzire quelle che nell'ascensore quindi già vi racconto che di notte non fa delle grandissime foto modalità notturna le migliora ma dovete stare veramente molto molto fermi che bel menù Novi Ligure grazie ai vostri suggerimenti ho mangiato questa un filo bruciata devo dire un filo bruciata ma buonissima tanta tanta roba pizzettina fritta per mio figlio madonna guardate questo no non è squacquerone crescinsù se non sbaglio si chiama in quel di tra la Liguria e il Piemonte in realtà sarei dovuto andare a Sena un po' più giù a mangiarmi anche la farinata però oh ragazzi qua al come cazzo si chiama banco mi pare di Novi Ligure ho mangiato una farinata veramente topissime poi fiori primo piano effetto bocchia naturale non male non male anche questi due alberelli ecco questa foto mi costerà il divorzio quindi giriamo subito con poca luce anche qua vabbè valgono le considerazioni fatte prima grande angolare normale e zoom che ovviamente è interpolata abbastanza bene o Milano campagna per sensibilizzare l'uso dei monopattini allora la sposo monopattini sì contro mano no monopattini sì sul marciapiede no l'angolo dello sharing guardate qua praticamente Elbitz Dot dall'altra parte c'era Lime e là in fondo le biciclette del comune si ragazzi usate i monopattini con la testa e poi camera anteriore abbastanza bene abbastanza bene e poi qua ho sfocato il mio figlio ma voglio farvi vedere questa foto anche questa fatta con la camera anteriore ma soprattutto anche qua sfoco questi tre bimbi perché prima comunione di Gabriele e quindi privacy e tutto ma è l'unica foto bocchè che ho cioè sembra un green screen ragazzi loro erano a 10 cm dal muro e veramente lo scontorno è troppo netto troppo netto e poi super super fiero di mia mamma guardate no questa torta non l'ha fatta un pasticcere anche l'angioletto l'ha fatta mia mamma guardate che torta era anche buona torniamo con poca luce e anche qua allora diciamo che nelle panoramiche già meglio è già meglio però su foto torno un po' sulla terra questo telefono state vedendo anche un pezzetto di video che ho girato anche sui video direi così così per quanto riguarda invece l'audio vi dicevo ottimo torno indietro perché lo stereo sente bene c'è la possibilità di equalizzarlo con Dolby Atmos e devo dire che sente bene pompa tanto e sentono bene i bassi qua se andiamo nelle impostazioni faccio vedere tutte le cose che si possono fare ok rimetto in pausa torno alla home sempre super fluido sì conclusioni quanto costa 599 euro la versione 828 699 il 12 256 io quest'ultimo ma ritengo che la 828 vada assolutamente alla stessa maniera prezzi che sono in linea alla fine con la qualità Gorilla Glass dietro Gorilla Glass davanti alluminio per quanto riguarda il frame anche per quanto riguarda le prestazioni il prodotto in sé ci sta come sempre wow la fluidità e a questo giro wow anche il display ovviamente ce lo sblocco anche volendo con la camera anteriore la forellino nello schermo e eh allora fa la giornata la batteria ma si carica anche in maniera velocissima e torna ripeto sulla terra quindi da Oneplus medio come l'otto le fotocamere che sono comunque più che sufficienti per l'uso social insomma sinceramente non se ne sentiva la mancanza o forse sì l'otto è uscito non troppo tempo fa ma io personalmente ve lo consiglio ehm sì mi è piaciuto tanto va a scontrarsi con tutti quei medi di gamma che in questo periodo si stanno anche un po' rimpicciolendo in dimensioni ma lui ne esce sicuramente a testa alta sempre top Oneplus un saluto da Andrea Galeazzi punto com grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti